Tragico incidente alla circonvallazione di Catania ieri intorno alle 21 e 40 dove a perdere la vita è Chiara Adorno, 19enne di Solarino, studentessa della Facoltà di Scienze Biologiche. Secondo la prima ricostruzione la giovane sarebbe stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali in un tratto non lontano dal policlinico. Uno scooter l'avebbe centrata in pieno insieme a un altro ragazzo che era con lei ricoverato adesso in gravi condizioni. Successivamente sarebbe sopraggiunta una macchina il cui conducente non si sarebbe accorto delle vittime e ad avere la peggio è stata proprio la brillante 19enne. Sul posto presente la punizia municipale di Catania che dovrà ricostruire l'esatta dinamica e comprendere di chi siano le reali responsabilità della tragedia. La procura di Catania intanto ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale. I mezzi coinvolti nell'incidente, uno scooter Honda e una Fiat Punto, sono stati posti sotto strequenza mentre si attendono le testimonianze dei due conducenti per fare luce sulla tragedia. La notizia del decesso ha scosso l'intera comunità di Solarino già approvata ai primi d'ottobre per la morte in un incidente stradale di Fabio Vita allo svincolo di Pozzallo. Per la morte di Chiara cordoglio a nome dell'intera comunità è stata espressa dal sindaco Peppe Germano. Non ci sono parole ma solo lacrime e tanta tristezza, ha dichiarato il primo cittadino. La famiglia di Chiara è molto in vista nel piccolo centro del Siracusano. Il padre è uno stimato professionista, un ingegnere responsabile per la transizione digitale del consorzio Plemirio. Essi stringono al suo dolore la presidente dell'area marina protetta Plemirio, Patrizia Maiorca, ancora il vicepresidente Marco Mastriani e il direttore Salvatore Cartarasa, nonché la coordinatrice corzortile Iole Rizze, tutto il personale dell'area marina protetta Plemirio. Siamo straziati, dicono dal consorzio, per questa vita spezzata in maniera così promatura e tragica. Non ci sono parole che possono esprimere il nostro profondo cordoglio nei confronti del collega e amico Michele per questo terribile lutto familiare. Arrestati due cittadini palermitani dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Palermo appunto, colti in flagranza del reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri mentre trasportavano 45 kg di sigarette. Le fiamme gialle durante il quotidiano servizio del controllo sui traffici commerciali avrebbero notato transitare un'autovettura sulla quale nei sedili posteriori erano posizionati tre scatoloni tanto incombranti da oscurarne l'unotto posteriore. All'atto del controllo i due soggetti presenti sul veicolo avrebbero affermato di trasportare capi di abbigliamento e di non essere provvisi di alcun documento di acquisto della merce. L'immediato riscontro eseguito dai militari delle fiamme gialle avrebbe consentito di appurare come reale contenuto degli scatoloni fosse un illecito carico di bionde di diverse note marche Malboro, Winston, Philip Morris e Merit. Pertanto i due soggetti sono stati tratti in arresto e in violazione del testo unico delle disposizioni legislative in maniera doganale per contrabbando di TLE. Dieci misure cautelari eseguite dalla Direzione Investigativa Antimafia di Palermo relative all'operazione denominata Breaking Bet. Le indagini sviluppate dalla sezione operativa della DIA di Agrigento avrebbero consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati a cui si contestano a vario titolo responsabilità in ordine alle ipotesi di concorso esterno in associazione mafiosa, esercizio abusivo di attività di intermediazione nella raccolta di gioco tramite l'installazione di apparecchiature in assenza di concessione dell'Agenzia dei Monopoli, nonché estorsione aggravata dell'agevolazione mafiosa e trasferimento fraudolento di valori. Le indagini hanno consentito di acquisire un grave quadro indiziario circa la capillare distribuzione e installazione di postazioni per il gioco d'azzardo, resa possibile mediante la costituzione di società intestate a prestanomi schermandone di fatto la reale titolarità. Sarebbero stati collegati in rete a parecchi attraverso i quali a giocatori era consentito di partecipare a scommesse su eventi sportivi, nonché di scegliere oltre ai giochi di abilità a distanza anche opzioni di gioco tipo videopoker e roulette, caratterizzata dal fine di lucro. Dalle investigazioni sono versi gravi indizi sui proventi dell'attività di betting, destinati a contribuire al sostentamento economico delle famiglie mafiose di Licata e Campobello di Licata, ma anche in parte trasferite esponenti di vertici della famiglia mafiosa di Campobello di Mazzara, consentendo così a Cosa Nostra di acquisire il controllo diretto e indiretto di lucrative attività economiche sul territorio. Niente risorse per rinnovare i contratti nel pubblico in biego, risorse tagliate alla scuola pubblica e alle politiche sociali, mentre continua l'opera di demolizione della sanità pubblica, tutto vantaggio dei grossi gruppi della sanità privata e con l'unico risultato di non poter garantire servizi sanitari adeguati a chi non può permetterseli. È in monito lanciato dal segretario generale UIL-FPL per la provincia di Siracusa, Gesualda Amatore, che annuncia che il 17 novembre il pubblico impiego sciopererà. Ha ragione da vendere il nostro segretario generale Pierpaolo Bombardieri nel dire che la manovra è una vergogna, perché impoverisce drammaticamente nel presente e nel futuro lavoratrici, lavoratori e pensionati. Nell'ultimo anno, tra l'altro, aggiunge il segretario Altamore, aumenti, speculazione e inflazione hanno falcidiato le già magre buste paga degli italiani. I lavoratori italiani hanno bisogno di un lavoro stabile e di qualità, non di precarizzazione esasperata, in cui alla fine vince solo chi i lavoratori li sfrutta. Bisognerebbe rinnovare i contratti di lavoro adeguandoli all'inflazione reale, sbloccare i fondi del salario accessorio, varare un piano straordinario delle assunzioni e più sicurezza sul lavoro. E in merito a quest'ultimo punto, non va dimenticato che solo nel 2023 sono morte proprio sul lavoro circa 90 persone al mese. Grazie a tutti!